Allora questa come avevamo detto più volte era una settimana molto importante dopo le ferie del Thanksgiving in America doveva parlare Powell avevamo i dati sull'occupazione tutto sommato una settimana positiva per i mercati azionari perché Powell ha detto che alzerà i tassi ma non più di tanto anzi rallenterà il ritmo degli aumenti i dati sull'occupazione a fine settimana sono stati buoni l'inflazione è in relativo rallentamento e quindi questo si traduce in un nuovo massimo settimanale di periodo per l'S&P 500 che si porta a toccare la resistenza 4100 la resistenza principale più su 4250 dove passano dove passano i minimi molto importanti del 2021 che hanno dato poi il via con la rottura prima tentata a febbraio e poi riuscita nel mese di aprile alla fase di ribasso che abbiamo visto prolungarsi fino a ottobre fino a area 3.500 dove poi è partito il mega rally abbiamo visto il miglior mese di ottobre faccio un po' di riepilogo delle puntate precedenti il miglior mese di ottobre da 40 anni quindi con un rialzo a sorpresa dai minimi appunto di questa candela del 10 ottobre questo reversal e per cui questo movimento è ancora in prosecuzione cosa ci dice l'analisi tecnica che a parte che siamo arrivati a ridosso delle resistenze abbiamo gli indicatori che stanno per portarsi in fascia positiva non ci sono ancora dovremmo vedere un superamento di 60 però in questo momento allo stesso tempo dobbiamo dire che siamo sulle resistenze siamo sui livelli diciamo massimi per quello che riguarda gli indicatori in un contesto di mercato bearish come abbiamo visto dal mese di marzo in poi però segnali di reversal tecnicamente non ce ne sono la candela di questa settimana è una normale continuazione una candela di continuazione rompe il rialzo la media a 40 periodi che ricordo siamo sul grafico settimanale rifletta è l'andamento della media a 200 giorni 40 periodi per 5 giorni se non sono le settimane fa 200 quindi siamo la volatility stop line anche essa è stata superata verso l'alto non ha certo ancora cambiato colore comunque per il momento il trend al rialzo continua stiamo ingaggiando dei livelli molto importanti quindi molto importante sarà l'andamento delle prossime settimane tenendo presente che stagionalmente dicembre è un mese positivo per le borse ecco detto questo però ricordo che quest'anno la stagionalità praticamente non ha mai funzionato a partire dal mese di febbraio marzo fino a dove aprile doveva essere un mese forte invece è stato debole l'estate doveva essere laterale invece siamo andati giù ottobre deve essere un mese negativo invece siamo andati su quindi questo è un anno di quelli dove per questo vi dico sempre attenzione quando si parla di queste statistiche perché le statistiche sono fatte di probabilità che il fatto che ottobre all'80% è un mese negativo c'è sempre l'altro 20% quando invece è positivo che è esattamente quello che è successo quest'anno quindi attenzione però teniamo presente che appunto la stagionalità pone a favore se non di una prosecuzione comunque di un consolidamento dei mercati su questi livelli quindi il fear and greed index conferma diciamo l'ottimismo che c'è fra gli operatori in questo momento siamo sullo stesso livello della settimana scorsa in settimana abbiamo toccato anche 69 perché dopo la dopo che ha parlato Powell c'è stata un'espansione al rialzo degli indici con un particolare ottimismo visto che finivano le accelerazioni degli alzi dei tassi ecco ora tutto questo non non è visto proprio in maniera univoca da tutti gli operatori c'è qualcuno che è preoccupato per le possibili turbolenze nel 2023 perché ci sono segnali anche di recessione però ecco il mercato è fatto anche di chi la vede in un modo chi la vede in un altro lasciate pure nei commenti per se volete commentare questa situazione di estremo ottimismo non estremo perché non siamo ancora nella fascia estrema però diciamo di ottimismo persistente perché ormai vediamo che è da diversi giorni da qualche settimana che siamo in zona verde quindi se dal punto di vista così sentiment a stomaco tra virgolette condividete l'ottimismo che c'è sui mercati rispetto ripeto dal punto di vista tecnico l'equity non dà segnali nessuno degli indici dà segnali ovviamente c'è che più forte c'è che più più debole lo abbiamo segnalato diverse volte il nasda che è un passo indietro non ha ancora ingaggiato la media a 40 periodi però anche qui ci sono segnali per gli indicatori di svolta verso l'alto però siamo sempre ancora nella fascia bassa ricordo che l'RSI in questi casi va letto vediamo se riesco a prendere il tool dei disegni l'RSI va letto in questo modo cioè noi qui abbiamo avuto la permanenza durante un bear market abbiamo la permanenza dell'indicatore sotto questa fascia grigia che fa da resistenza ogni volta che ci sono i rimbalzi però allo stesso tempo quando viene ingaggiata così come quando vengono ingaggiate le resistenze bisogna porre massima attenzione perché potrebbe anche esserci un'inversione del trend ecco per il momento il nasdaq resta più lontano abbiamo detto che invece l'abbiamo detto diverse volte l'indice più forte in america è il Dow Jones che però diciamo fa un po' match a sé perché è composto di soli 30 titoli l'abbiamo detto diverse volte il Dow Jones si è già portato sulle resistenze a 35.000 molto importanti queste qui il Dow Jones beneficia del fatto che al suo interno ci sono molti titoli difensivi e quindi non ripeto discorsi già fatti ecco proprio voler vedere il pelo nell'uovo in questa settimana il Dow Jones registra una candela tipo hanging man quindi meno pronunciata verso l'alto forse c'è un piccolo rallentamento ci sta perché appunto dopo la gran corsa delle settimane passate però il break verso l'alto lo ha fatto qui nella settimana del 7 novembre questa è stata la settimana di pubblicazione dei dati sul CPI ecco un altro modo di anche qui un secondo pelo nell'uovo è la diminuzione dell'app trust no cioè qui c'è stata la notizia dell'inflazione in rallentamento e quindi ha alimentato le speranze sul contenimento dei rialzi dei tassi poi man mano vedete che l'ampiezza del corpo giallo è andata a diminuire no e quindi questo è un piccolo segnale di rallentamento del momentum però ripeto qua segnali chiari di inversione non ce n'è siamo sulle resistenze e come sempre prudenza quando si arriva su certi livelli DAX ecco a proposito di app trust questa è il candelone sempre lo stesso della settimana del 10 novembre e qui uno due tre qui il momentum di breve si sta spegnendo ok lo vediamo dall'RSI che si è appiattito non abbiamo neanche qui segnali chiari di reversal però ecco fra tutti quanti quello che mi sembra un attimino più in frenata dal punto di vista tecnico il DAX stiamo arrivando su livelli di resistenza importanti abbiamo visto sugli grafici giornalieri 14,6 dove ci sono questi massimi relativi precedenti il livello più importante però è 15.000 perché 15.000 era la base dell'area dell'ampia area di distribuzione del 2021 quindi siamo ancora lì lontani per cui attenzione vediamo questa settimana se continuerà il rollover dell'RSI sul DAX gli indicatori di volatilità confermano relativa tranquillità il VIX sta venendo giù pari pari così come l'SP continua ad andare verso l'alto siamo anche qui lì siamo sulle resistenze e qua siamo sui supporti diciamo l'andamento è quasi sempre abbastanza speculare quindi qua siamo anche in zona di eccesso in passato da qui siamo venuti su ecco questo è importante penso che il VIX potrà darci qualche segnale anticipatore di reversal oppure ci confermerà vediamo la rottura eventuale di questi supporti in area 20 ci confermerà che invece il trend continua al rialzo e potrebbe continuare a sorprendere gli operatori ripeto dopo l'ampia salita del mese di ottobre sono scattate ricoperture cioè quindi è chiaro che un sentiment fortemente negativo ha sicuramente favorito il rally che abbiamo visto negli ultimi tempi veniamo ai tassi i rendimenti sui decennali hanno continuato verso il basso come avevamo detto nelle analisi precedenti qui il reversal è avvenuto nel mese di ottobre quindi su queste aspettative di rallentamento degli aumenti dei tassi ecco sembra un gioco così uno scioglilingua quindi i tassi continuano a aumentare Paolo ha detto che resteranno alti però qui il mercato la cosa la vede positivamente quindi i rendimenti che scendono almeno sui decennali quindi siamo andati sul supporto a 3,5 3,5 ricordo è il rendimento guardiamo i grafici sui rendimenti perché queste sono state settimane di cambio scadenza sui future dei bonder quindi ricominceremo a vedere i future li facciamo stabilizzare dopo il cambio di scadenza da dicembre a marzo però guardiamo i rendimenti che invece ci danno una serie storica continua e da un punto di vista analisi tecnica ci fanno leggere comunque la situazione in maniera abbastanza chiara senza i salti che ci sono sulle serie dei future che magari da una scadenza all'altra fanno salti di 1-2 punti ecco quindi 3,5 il supporto per i decennali americano molto importante volatili stop line target raggiunto l'avevamo detto qui siamo nella situazione opposta a quella che abbiamo visto prima stiamo ingaggiando la fascia grigia che in questo caso fa da supporto perché qui invece i rendimenti hanno avuto tutta una fase positiva dove vedere ogni volta che ci sono state le correzioni questa fascia grigia ha fatto da supporto quindi lo fa anche stavolta o passiamo ecco quindi qui lascio libera la vostra espressione lasciate nei commenti come vedete anche qui dal punto di vista tecnico la situazione stessa cosa per il bund tedesco rendimento del decennale tedesco situazione assolutamente identica siamo sul supporto 1,8 che erano i precedenti massimi volatili stop line media 200 c'è ancora spazio l'avevamo detto fino a 1,4 la situazione tecnica potrebbe rimanere anche invariata dal punto di vista delle medie e degli indicatori grafici anche se dovessimo scendere fino a 1,5 1,4 questo ha dato beneficio all'euro che supera 1,04 era il target che c'eravamo dati questa settimana lo passa con una espansione non troppo netta però c'è stata qua siamo in zona di eccesso quindi attenzione perché zone di resistenza qui fino a 1,06 1,05 1,06 io qui mi aspetterei un assestamento ecco però ha cambiato colore la volatili stop line dopo tanto tempo in pratica eravamo passati al colore nero nell'aprile 2021 quindi è un fatto da sicuramente rimarcare perché oltre un anno e mezzo di volatili stop line nera sul grafico settimanale quindi c'è un segnale di cambiamento che deve essere confermato l'avevamo visto deve essere confermato sul breve nel senso perché comunque stiamo entrando in zona di eccesso quindi un pullback qui ci sta tutto quindi ora vediamo se 1,04 riuscirà a reggere quindi per contro il dollar index un amico lo vede a 101 io penso che dal punto di vista grafico il primo supporto importante sarà 103 perché qui abbiamo la situazione opposta ovviamente all'euro dollar index per il 50% è composto dal cambio euro dollaro quindi pesa molto pesa molto il cambio euro dollaro quindi molto spesso questi grafici si possono leggere in modo speculare siamo anche qua in zona di ipervenduto chiamiamolo così di breve quindi 103 potrebbe fare da supporto nel breve termine allora questa situazione sul tra tassi cambi e il resto l'abbiamo visto nei commenti giornalieri ha dato il via alla brecca al rialzo dei preziosi l'argento che è il più volatile ha rotto 22 con decisione nella giornata tra giovedì e venerdì questo è un segnale importante anche questo da attendere un attimo di conferma perché l'argento è più volatile e dà falsi segnali non è questo il caso perché qua la chiusura è stata forte mentre questa è una shooting però il segnale potrebbe venire la settimana successiva con un bearish engulfing quindi per quello bisogna sempre attendere certo il fatto che abbia chiuso per la prima volta sopra delle esistenze importanti sicuramente positivo così come ecco qua segnalo anche qui il cambio di colore della volatility stop line quindi su questo sono tutti segnali importanti anche se siamo appena adesso mettendo il naso sopra le resistenze e la media a 40 per loro situazione analoga non proprio uguale nel senso che comunque siamo ancora sotto 1800 1800 era il target e quindi questo è un livello sicuramente molto importante qui non abbiamo cambiato colore con la volatility stop line però ecco il superamento di 1800 questo è un triplo volendo allora possiamo vederlo come un ampio doppio minimo dove il secondo minimo addirittura fatto da tre minimi no comunque la rottura verso l'alto di questa figura 1650-1800 solo voler proiettare verso l'alto il range rotto ci porta questi sono 200-350 punti ci porta scusate ho sbagliato i conti 150 punti ci porta in area 1950-2000 quindi potremmo andare tranquillamente a rivedere i massimi dell'anno quindi andare a rivedere questa shooting di marzo quindi sicuramente da seguire l'evoluzione di questo ingaggio della media a 40 periodi non ci sono novità dal petrolio settimana di rimbalzo di consolidamento vediamo se riuscirà a uncinare verso l'alto la media per il momento non ci sono novità dal punto di vista tecnico ci sono invece novità sul gas questo il gas americano classica questo classico perfetto è andata a fare la shooting sulla media a 40 e questa settimana bearish engulfing questo è un segnale ribassista quindi primo test 5,5 non siamo lontanissimi con la volatilità che è il gas ci passa un 10% ma con la volatilità che ha lo potrebbe tranquillamente fare in due giorni e stiamo anzi abbiamo incrociato appena quindi verso il basso questo è un altro segnale bearish 42 la media dell'RSI quindi attenzione agli energetici perché segnalano appunto debolezza quanto tempo abbiamo? poco, velocemente le richieste un amico chiede di unicredit, unicredit segnale bearish questa settimana dopo aver rollato verso il basso l'RSI incrocia la media dalla zona di ipercomprato eravamo sulle resistenze, ne abbiamo parlato sui grafici daily ecco vedete questo intendo il calo di momentum, le candele che si espandono e poi il corpo diminuisce, shooting questa settimana reversal verso il basso io mi attenderei un test di 11,2 quindi occhio 11,2 anche se l'impostazione sta tornando positiva però 11,2 deve reggere a un'eventuale correzione interessante Interpump l'unico neo, diciamo questo break al rialzo della media 40 e della volatilità di stop line è avvenuto con volumi scarsi quindi ora pullback sulla metà del candelone giallo classico, sembra che tenga direi all'amico massima attenzione a 39 non vogliamo vedere il titolo tornare sotto 39 sta provando a impostare positivamente se è tornato sopra 60 qui l'RSI conferma appunto che sta tentando di creare supporto sui livelli attuali qui dal punto di vista grafico BS non ci dà segnali non ha fatto nessun break particolare ci sono dei segnali positivi però questo bullish engulfing area 11,50 molto importante come supporto aveva già fatto da supporto prima e questo failure aveva rotto a ribasso la media l'RSI e questo è un segnale di failure cioè quando rompe poi nega e riparte verso l'alto però questi sono segnali tecnici di grado inferiore non c'è ancora il break verso l'alto che deve avvenire ovviamente al superamento di queste resistenze che sto indicando in area 14,3 occhio verso il basso a 11,5 ci rimane poco tempo Credit Suisse ne avevamo parlato ieri poi ieri è stato un po' il presidente Credit Suisse ha cercato di tranquillizzare tutti perché hanno smesso di vendere i conti a Merino sul weekly vediamo se tiene però ecco questa è una situazione preoccupante vediamo un attimo queste situazioni che non tornano l'altro ne avevamo parlato ieri Blackstone il fondo americano che ha dovuto bloccare vediamo un attimo qui Colosse Private Equity pone limiti ai riscatti del suo fondo immobiliare quindi ci sono questi segnali ci sono questi segnali di tensione qui c'è qualcosa che non va questo è un fondo che ha bloccato i riscatti quindi riscatti banche che cominciano a scricchiolare ecco questi sono segnali che comunque non vanno presi sotto gamba guardiamo il grafico questo non c'è niente di particolare per il momento sul titolo però sono situazioni sono piccoli campanelli d'allarme abbiamo visto in passato che situazioni più critiche partono così finiamo velocemente ecco perché un amico lo sta chiedendo ma non riesco a fare il video dedicato lo faremo con la Cina rimbalzo tecnico questo è a seguito del congresso del partito comunista qui la situazione è particolare farò un video a parte questo è un pullback non c'è niente di particolare non ci sono variazioni segnalo a proposito della Cina Berkshire Hathaway Warren Buffett sta disinvestendo va bene su questo chiuderei pochi secondi buon fine settimana appuntamento a lunedì grazie per i like buon fine settimana a tutti buon fine settimana in questa